A due milioni di anni luce dalla Terra, sul pianeta Turbo... Missione compiuta, grande Turbo! Portatela qui, fate presto! Ma dentro c'è l'olio giusto! È una Y10 Turbo, perciò Fiat VS Turbo! Sì, è olio Fiat VS Turbo! Tornate sulla Terra e portatevi l'una Esra! Oh, santo cielo, ma non ce n'è bisogno! E i più moderni Turbo, olio Fiat VS Turbo Synthesis.